Massimo Melis è candidato per il Comune di Sant'Antioco come sindaco. Quali sono i punti salienti del vostro programma? I punti salienti del nostro programma sono sicuramente il turismo, al quale è legato una riqualificazione. Prima di tutto, perché prima di fare il turismo bisogna rimettere a posto il Paese. Il Paese vive in una situazione di grave degrado, ci sono tantissime case abbandonate, tante facciate fattiscenti. Se vogliamo puntare sul turismo e per un'isola è la direttrice più grande, dobbiamo prima di tutto rimettere a posto il Paese. Chiunque di noi riceve un amico a casa, un parente, chiunque riceva, la prima cosa che fa prima che arrivi non risistemi casa. La stessa cosa dobbiamo fare noi, rimettiamoci a posto il Paese. Dopodiché, rimettendoci a posto il Paese, non facciamo altro che far partire l'edilizia. Perché se noi riusciamo a far rimettere a posto le facciate, a far rimettere a posto le case abbandonate, stiamo dando energia, nuova linfa all'edilizia. L'edilizia che purtroppo soffre di un problema grandissimo, che è quello dell'adeguamento del PUC al PPR. Purtroppo Sant'Antioco non ha ancora, nonostante abbia nominato l'ufficio del piano nel 2008, non ha ancora adeguato il PUC al PPR. Questo cosa provoca? Provoca il fatto che l'iter procedurale è lunghissimo e molte volte si trova a un punto cieco il cittadino che vuole investire per risistemarsi casa e per mettersi a posto la facciata. Noi riteniamo che il primo intervento da fare sia quello immediatamente di adeguare il PUC al PPR e in quel modo approvare un piano particolareggiato almeno del centro storico affinché il cittadino sappia perfettamente cosa chiedere e cosa gli verrà autorizzato. In questo modo riqualifichiamo tutto il paese. Logicamente assieme al turismo dobbiamo pensare a riqualificare il paese, dobbiamo pensare, essendo un'isola alla nautica, alla pesca. Sant'Antioco ha la più grande flotta pescatori di tutta la Sardegna, 700 buste paga. Ora è chiaro che questi pescatori hanno bisogno di un porto pescherecci che purtroppo Sant'Antioco non ha. Ce l'hanno comuni che hanno minore flotta di pescatori. Quindi perché un cittadino dovrebbe votare la vostra lista e non le altre? Un cittadino deve votare la lista Sant'Antioco attiva perché siamo l'unica lista che è in grado di fornire il rinnovamento con alla base l'esperienza. Noi abbiamo un gruppo di persone, io, Torello Massa, Luca Cabras, Valerio Lecchi e Antonello Pitau che abbiamo già dimostrato ampiamente capacità nell'amministrare il paese.